Ciao a tutti qui da Joe Underworld sono riuscito a tornare a casa con gli eventi di ossigiana e ora siccome nella 1.4.2 di minecraft i mob del nether riescono a oltrepassare il portale quindi possono andare da un mondo all'altro cercherò un modo per costruirò il portale il più lontano possibile della casa quindi iniziamo ma per me è anche un quaderno ma se tanto non è che sia così magari qua ci scava anche un dialetto qua 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 Sì. Come and go. What about sh會. Is that me, 20? Sì. Alla prossima. 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 Ciao, ciao.